Ti hanno inventato il mare Tu dici non ho niente Ti sembra niente il sole L'amore Meraviglioso A, a, accetta Storie da tranquillare sfera Come spera da morse Fini, fini Allora per me Oda è stata un'occasione per conoscere tanti nuovi amici e mi sono divertita molto anche a cantare canzoni di cui vado molto fiera perché mi piacciono e mi piace molto fare canto con Dora, la mia maestra, che è molto gentile A me è piaciuto molto questo ambiente perché è tranquillo e è molto familiare perché io mi sento come a casa in questa qua a nota La maestra non c'è niente da dire, è bravissima ci ha fatto imparare tante cose Oda è un luogo dove posso esprimere liberamente le mie emozioni e quest'anno in particolare sono migliorata sia con la voce che il mio strumento sia interiormente Ci vediamo l'anno prossimo, non ci vediamo più Addio per sé No, non lo faccio, vengo Ciao No, non lo faccio, vengo Mi è piaciuto di più suonare con il maestro Moris e suonare con gli altri La musica per me è una cosa speciale una cosa che mi sta a fare stare in terreno è una cosa che mi sta a stare felice La musica per me è una cosa che mi sta a fare La musica per me è un po' la canzone vuoi venire? la canzone vuoi venire ad associare le parole agli accordi la canzone vuoi venire ad associare le parole agli accordi la canzone vuoi venire ad associare le parole agli accordi e mentre marciavi con l'anima in spalle eresti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso e identico umore ma la divisa di un altro colore sparali Piero, sparali ora e dopo un colpo sparali ancora fino a che tu non lo vedrai sangue cadere in terra e coprire il suo sangue visto che Officina degli Artisti ci ha offerto emozioni per tutto l'anno in particolare a me per due anni e sono cresciuto tantissimo in questi due anni molto di più di tutti gli anni che ho vissuto nella mia vita quindi vorrei ringraziare a nome di tutti gli alunni appunto Officina degli Artisti che ci fa crescere e ci dà emozioni molto forti ed emozioni nuove e ci fa crescere 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.